Riconfermati fino a massimo la fine del 2024 i cinque commissari straordinari delle aziende sanitarie ospedaliere della Calabria. Ed ieri il decreto del commissario Chiuto che sceglie ancora una volta la linea della continuità nel management sanitario calabrese. Le uniche due aziende immuni sono le Aspi di Reggio Calabria e Cosenza dove è stato concluso l'itere per la nomina a direttore generale. I cinque commissari straordinari invece resteranno in carica fino alla scadenza del decreto Calabria prorogato fino alla fine del 2024. La legge infatti prevede un decreto di conferma del commissario entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge pena la decadenza automatica. Pochi giorni fa all'ospedale di Cosenza il commissario De Salazar ha lasciato trapelare qualche dubbio su una sua possibile riconferma. Ma intanto si prosegue così. Caso particolare quello di Antonio Battistini, il generale chiamato inizialmente a guidare l'Aspi di Catanzaro e oggi manager anche dell'azienda di Vibo Valencia sotto accesso prefettizio per presunti infiltrazioni mafiose. Stando ad occhiuto proprio questa situazione con il potrarsi delle verifiche all'interno dell'azienda ha causato il ritiro delle procedure unificate per la nomina dei direttori generali a Cosenza, Reggio Calabria e Vibo Valencia. Proprio ieri è stata ripubblicata la procedura per la sola azienda ospedaliera di Cosenza, l'italiano De Salazar che risulta nell'elenco nazionale degli doni alla nomina di direttore generale punta ad una riconferma triennale nella gestione dell'azienda ospedaliera di Cosenza. E questo anche per un momento particolarmente fertile e favorevole l'ingresso dell'Università della Calabria tra i reparti e la possibile trasformazione dell'annunziata in ospedale universitario nei prossimi anni ha una portata enorme anche soltanto sul piano puramente politico. Una poltrona di rilievo insomma che potrebbe diventare ancora più strategica nei prossimi anni. È chiaro che in caso di perfezionamento dell'azienda ospedaliera, anche a Cosenza, la nomina sarà effettuata interpellando anche il rettore dell'Ateneo di Arcavacata. Al momento l'intesa è stata necessaria solo per Simona Carbone che sta guidando invece la transizione non senza difficoltà verso la più grande azienda ospedaliera universitaria del mezzogiorno. Al momento l'unico che ne risulta tra gli doni è proprio Gianluigi Scaffidi, ex commissario straordinario dell'Aspi di Reggio Calabria e alla guida del GOM ormai dalle maggio del 2022. Simona Carbone invece è ammessa all'elenco con riserva per effetto di un'ordinanza delle tribunali di Roma delle 10 dicembre del 2023 che ha disposto l'inserimento in elenco. In ogni caso siamo punto e a capo verso la continuità e con il timore di una futura l'ennesima proroga del Decretone.